Ciao amici, con l'estate le verdure, soprattutto zucchine e melanzane, sono ricercatissime e utilizzatissime. In questo caso Luisa ci fa dei bei fagottini ripieni impanati al forno. Una delizia! Vediamo come fare. Innanzitutto è precedentemente tagliate le zucchine a fette di lungo. Prepariamo le uova e il pane grattugiato per l'impanatura. Quindi sbattiamo le uova con un po' di prezzemolo e sale. E mescoliamo pane grattugiato e formaggio grattugiato. A questo punto facilmente iniziamo a preparare i fagottini. In primo luogo dobbiamo intrecciare le zucchine in questo modo. Poi mettiamo in centro la provola tagliata a rondella grossa. E quindi chiudiamo il fagottino in questo modo, intrecciando sempre le zucchine. Quando fatto teniamo ferme le zucchine con due stecchini. Ora prepariamo l'impanatura e soprattutto la teglia. Quindi iniziamo ad impanare e passiamo i fagottini prima nell'uovo, poi nel pane grattugiato. Ed infine mettiamo in teglia. Quando è finito passate un po' d'olio sopra e infornate in un forno caldo e statico a 200 gradi per 20 minuti. Sfornate e gustate. Una delizia! Fagottini veramente per ogni utilizzo. Vi consiglio di farli. Ciao, alla prossima!